Ciao, io sono Jill Cooper e sono qui per farvi vedere perché un trampolino è più efficace della corsa per avere più risultati metabolici. Questo è un accelerometro, ok? Un accelerometro fai da te. Guardate il liquido blu. Quando io corro, vedi che i due colori non si mischiano, non si mischiano perché la forza di impatto viene assorbita a livello della mia caviglia. Invece adesso io andrò a proprio saltare sul mio trampolino e guardate che succede al liquido blu quando io sto saltando. Si mischiano alla perfezione perché tutta la forza dell'accelerazione viene fatta sull'asse verticale, mischiando non solo dai piedi ma fino alla testa. Vedi, sono perfettamente mischiati questi due liquidi che vuol dire che c'è un'accelerazione che viene percepita quasi da tutto il cielo del mio corpo, dai piedi fino alla testa. Ecco perché un trampolino è più efficace della corsa per il vostro benessere.